ciao a tutti amici di youtube eccomi qua da buonasera da nicola sono sulla mia pagina facebook per segnalare una cosa molto velocemente che sarebbe vedete quando lo screenshot che ho pubblicato ieri sarebbe la 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 pagina non il canale scusa si dice il canale telegram eccolo qui di viva mai dire ovviamente non vi faccio vedere il il mio diciamo il mio il mio telegram perché di fianco ci sono dei dati personali non voglio mostrarveli ma vi voglio segnalare dato che ieri c'è stato come come avete visto un un crash mondiale sentivo prima non io pensavo che fossero per invece mondiale di facebook instagram e whatsapp guarda caso sono tutti e tre di facebook ed è dura ed è durato ben sei ore non ho mai visto io sì ho visto i crash di facebook di whatsapp anni prima che duravano due ore non sei ore non so da cosa sia dovuto questo questo crash non lo so secondo me è qualcosa di serio non si sa però ieri ho pensato a questa cosa qui c'è quella di creare un gruppo telegram su telegram visto che a parer mio telegram è una chat che funziona funziona molto bene io ce l'ho da parecchi anni non si è mai bloccato ma proprio mai 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 e in questo canale telegram ci scrivo tutti c'è gli stessi aggiornamenti che sono sulla pagina facebook in modo tale che quando facebook dovesse andare in crash nuovamente e io ho bisogno di scrivere altre cose postare foto o insomma qualcosa o se devo condividere delle novità posso farlo su telegram voi vi scrivete e magari ricevete anche le notifiche qualora non le silenziate vi leggo la descrizione ovviamente nella descrizione di questo video trovate il link telegram viva mai dire e leggiamo allora benvenuti nel canale telegram di viva mai dire che ho deciso di far nascere ora dato che quello che è successo a facebook eccetera dato quello che è successo a facebook eccetera nelle ultime ore un modo utile per non perderci di vista in caso di altri blocchi ovviamente le regole sono le stesse nella pagina della pagina facebook e la youtube quindi no insulti no razzismo no c'è ricche sia al rispetto eccetera eccetera insomma comuni ovviamente iscrivete ovviamente iscrivetevi pure con questo canale resterete sempre aggiornati su quello che accade nel mondo già la piano esattamente come accade su facebook su youtube e facebook insomma un'alternativa a facebook fino a fino adesso lo fanno in molti quindi insomma può esserci può esserci d'aiuto niente volevo dire solo questo e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti da nicola